Prima di iniziare vi invitiamo a cliccare sul tasto iscriviti e ad attivare le notifiche per non perdervi nessuna delle prossime notizie. Grazie mille per il vostro supporto. Nel mondo dello spettacolo, abbiamo detto addio a un'icona. Questo straordinario personaggio è stato celebrato in ben 19 occasioni e ha lasciato un'impronta indelebile per una serie di motivi eccezionali. Tra le molteplici vette raggiunte nella sua carriera, spicca il suo ruolo di conduttore nel programma televisivo di maggiore longevità nella storia della televisione statunitense, The Preach is Right. In Italia, lo ricorderemo soprattutto come il volto di, ok, il prezzo è giusto, parliamo del celebre presentatore televisivo Bob Parker. Questo celebre show televisivo ha visto la sua prima emissione nel lontano 1956 e poi è stato rilanciato sotto la guida abile di Bob Parker nel 1972, mantenendo un posto di rilievo nelle case di milioni di telespettatori fino al 2007. Ma la sua influenza non si è limitata solo al piccolo schermo. Bob Parker ha fatto alcune apparizioni memorabili in film e serie cult americani, tra cui una scena di combattimento epica contro il personaggio interpretato da Adam Sandler nel film, Happy Gilmore, del 1996. L'ultima volta che abbiamo visto Bob Parker è stata per le strade di Hollywood nel 2016, quando è stato notato dai giornalisti. La sua morte è sopraggiunta per cause naturali, e ha potuto contare sull'aiuto e il conforto dei membri della sua amata famiglia durante il suo viaggio verso la fine della vita. Bob Parker ci ha lasciati all'età rispettabile di 99 anni, nella sua dimora a Los Angeles. È curioso notare che il programma che ha contribuito a rendere famoso continua a intrattenere il pubblico ancora oggi, con Adam Sandler tra i produttori. La sua eredità nell'ambito dell'intrattenimento rimarrà indelebile, e il suo ricordo continuerà a ispirare coloro che amano il mondo dello spettacolo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo video.